Una cosa super veloce volevo dirvi, allora uno, scusate se non sono riuscito a rispettare l'orario dei video di questa settimana, cioè di 3 video alla settimana e l'altra, vi volevo dire che presto inizierò anche una serie su un gioco che ho appena comprato che si chiama Prince of Persia e farò pure una serie su Diablo 3, dovete aspettare un po', credo che sia soltanto fra 1 o 2 settimane però vi lascio al video, mettetevi tanti like e iscrivetevi, mi raccomando, ciao! Bella a tutti ragazzi, qui è Basu che vi parla e siamo di nuovo col Peo e col Vittorio che è di qua e farà di solito, come al solito, le sue battute squalide Non stai registrando! Sto registrando! Sotto qualcosa di sotto no 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 no! Cosa quando? E' la seconda volta che entra lì i vitti Niente, niente Questo pezzo qua lo tagli, però si lo tagli No, no, no Beh, senti, non è facile vedere con le lente di chi Però ti è finita l'armatura sopra Ok, adesso ci vedo No, l'armatura sopra, sì, non c'è più Oh, guarda, sembra pipi calze lunghe Guardatemi il collegamento con pipi calze lunghe Guardatelo, guardatelo Eh beh, guardatelo dopo No, no, dopo mi dite Adesso qua c'è la lava, scopetti Non mi hanno avvelenato Una non mi aveva avvelenato Wow, i blocchi di chi altri? Oh, qua Qua sei azzeccato Sono blocchi Vedi, guarda, sembra peppa Peppa Pigsi Sembra Guarda, guarda, guarda Sembra Niente, niente No, sembra pipi Non ce la faccio Ecco, io guardo Posso guardare pipi? Pipi calze lunghe Ecco E sono qui Oh figa Allora, già abbiamo in camera da registrazione E' uno che si mette a guardare pipi calze lunghe No, non lo sto guardando Vedete, vedete Non chiudere tutta la webcam Non so di one shot Adesso mi mangio One shot Alla fine fate One shot, one kill Che cosa c'è su di? C'è su di power? Cosa c'è su di power? Ah, ma è la cazzo Tipo Quindici No, o nove O nove Ah, ah, mi voglio succidere Cesaroni, cos'è che c'era scritto? Cesaroni Che cazzo c'è Oddio Ed è morto Proprio colore Coglione Sai che mi sa che Veo, sai che No, niente Comunque Power 8 Solo Ma chi è? La tipa l'ha un peggio ancora La signorina Ma buongiorno signorina Perché se avete seguito L'episodio 2 La tipa sarebbe la webcam Ma ciao signorina No, dai Vittorio Vittorio per l'amor di Dio Basta Non so che non è che cosa che capisci di questa registrazione Ah, salta giù Di Valkyrie Salto Giuda Salto Giuda Ho capito Salto Giuda Allora Allora, io non ci vedo una mazza Allora, Vittorio Non posso fare i miei commenti Basta muoversi Se non vedo non posso fare i miei commenti Allora, vedi un sacco Perché c'hai lo schermo davanti al naso Io ho anche gli occhiali e le lenti E quindi se non vedi così Altro che orbe Wow Sai che ho visto la tua ferrovia gigante Ferrovia no binari lì Ah, la ferrovia di Mago Merlino Cioè, lui identifica Sì, ma non finisce più Ma fa? Attraverso Perché non hai visto l'episodio della serie principale Allora Osso L'osso di cavo Cosa ne hai messo, Mago? Un po' di tempo Sei andato messo Cosa? Sì che l'ho visto L'ho visto con lui Ah già? Ma non l'abbiamo visto tutto Ah già? Che voce Allora L'ho visto tipo tre volte L'isola di sabbia Dov'è? C'è più C'è più C'è più C'è più C'è più Facciamo spumare un paio di Ender Spumare? Ma cosa? È già uno stack di Ender È già uno stack Brutto, cattivo Tu No Bassiro Sì, ma mettilo su lì a posto Di uno stack di terra No Bassiro No Però, sì, guardate L'ultime Stavo pensando Le ultime puntate di Pipi Fanno stra piangere No, perché Incontra suo papà E tutte quelle roverie No, seriamente Ma lui è qua a parlare di Pipi Cazzo lunghe Ma vi rendete conto? Ma no Ma perché non 50.000 like Iniziamo a una serie di Pipi Cazzo lunghe So Mike Dai, ci state La creo io Dai, ci state Però 50.000 like Mi piace Cioè, non ce la fa neanche a dirlo Perché 50.000 like 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 50.000 like Mi raccomando Avete capito? Sì, ma guarda che il microfono Non è lì e qui Cretini Mettetemi So che non avete messo Mi piace Andate a mettermi Mi piace Non l'avete ne ancora messo Mettetemi piace Eh ma Stanno guardando Ma non hanno ne ancora messo Mi piace Si mette alla fine del video Quindi No, non è vero Lo stanno guardando Aspetta 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 Dai, mettetemi piace Allora A parte qua Ma che deserto Metti qualcosa Dai Ecco Adesso mettiamo Il labberello No, mettiamo La casa di Peppa Pig Giuro che se arriviamo A un milione Di like Faccio Faccio La serie Di Peppa Pig La serie Su Minecraft Di Peppa Pig Ma sai quanto è Un milione? Lo so È proprio quello Ho detto appunto Però dai Sti picci qua Stanno guardando il video Ma non hanno ne ancora messo Mi piace Non lo sento? Io vado là Prendo un po' di legno Ora che torno Gli alberi ci sono già Hai Billy Hai Billy cosa? Vakken Mucken 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 Si Vakken Mucken No, aspetta Vakken Non è magari mucca In tedesco No, perché Vakken Con la mica Mertel Ma per l'amore di Dio Allora Praticamente In questo episodio Credo che Non abbiamo fatto Un emerito Niente Ho notato Non sei ancora morto Strano Sì Anche te Se ci metti 50 C'è un cuore E C'è Non sa parlare No Ma Donate un euro Per gli analfabeti Comunque Appena è entrato Il mio fratello Intanto lo taglio Sto pezzo Mi raccomando Diciamolo anche I miei occhiali Invece sono qua Sono qua Vedete No, per l'amore di Dio Che dopo non si vede No, si vede Perché ti spunano Qua si vede normale Perché se faccio così Ti vede Però No, in teoria no Vittorio Posso mettergli la lente Sulla Oh, posso metterla La lente sulla te No 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 Qui Vedi No Ciao tipa Dai, posso metterti Ci impiega più col bon milk A prenderlo Che normalmente Bon milk E cos'è il milk Milk e cioccolato E latte in inglese E la farina di latte Che buona Ok 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 Allora Sono quasi peggio Delle freddure Ma cosa stai mettendo Che mi fa male il collo Guarda su Dai, ma Ma Lui pensa di essere In Minecraft Da fare Devo guardare in su Ma pensa a sto tipo qua Che sta facendo sta roba Che male il collo Dai, che male Ma cosa fai? Fai le cose Quelle distrugge anche te però Dio buono Vittorio Mi dica Ombrello Ho perso la Ombrello Perché Per la disperazione Mi lancio giù dall'isola I believe Fly Yeah Perché sei morto? Scusa Che rincola Ma sei un coglione Avevi uno e mezzo Un cuore e mezzo Avevi consumato E basta Sì ma se tira Tanto non ti te la sforzo Per bacco Un soffio Cosa? Sennò mi te la sforzo Perdevo cuore Ok Soffio di Ma se pari mezzo cuore Con tutta quella cosa che hai indosso Prova a fare la testa I believe Perché va giù un cuore Dai ma che antipatico Ma secondo te Se salto giù da un dirupo No Allora siamo venuti qua a scavare un po' di cobblest Che cazzo te le fai della cobblest? Non lo so Però mi andava di usare L'acqua era secchio Non secchiello Vittorio l'abbiamo capito Stanotte Sto spavano dentro Ma se spavano dentro? Non ti spavano fuori Stanotte ho fatto un sogno Troppo strano Sto perrua Perché? Perché all'inizio ho sognato Gretta Menchi Non so perché Gretta Non possiamo magari neanche Robilarle in questo figlio No possiamo Dopo? Non so perché Se arriviamo a 88 mi piace Giuro faccio una serie di step Faccio io Ok Ma qua è diventato una foresta pluviale del Kansas Ah cos'è la foresta pluviale? La foresta pluviale è la foresta che c'è quando piove tanto Ovvio Ragazzi è diventato un video educativo Allora Non prende il telefono Se ci vedrete tipo per 200 anni Cioè per un sacco di mesi fino a Natale Con gli stessi vestiti È perché stiamo continuando a registrare Non è vero Cambieremo i vestiti Sì Ho adesso sulla seta La fornola sulla maglietta Sì sì Certo Vabbè Ci vediamo alla prossima Perché sono già nove minuti di registrazione Ciao E ciao Ciao